L'ennesima tragedia che sceglie come teatro della morte il Mar Mediterraneo è avvenuta ieri pomeriggio. Otto dispersi, fra cui due bambini e una piccola di due anni, morta mentre la motovedetta della Capitaneria la stava portando assieme agli altri 42 superstiti, verso il porto. E poi due giovanissimi salvati in extremis da padre e figlio, entrambi pescatori. E' il bilancio dell'ennesima tragedia dell'immigrazione, avvenuta a poche centinaia di metri dalla costa di Lampedusa, davanti capo Ponente. Erano in 53 partiti da Sfax in Tunisia i migranti che viaggiavano su un barchino di ferro, quando erano ormai a poca distanza dalla costa, intorno alle 14. La carretta è colata a picco. Alcuni naufraghi, tra i quali uomini, donne e bambini, hanno raggiunto gli scogli mettendosi in salvo. Tutti si sono aggrappati alle rocce di Capo Ponente, due invece hanno nuotato fino a un muro vecchio, ad accorgersi dei migranti che sembrava fossero stati abbandonati sulla costa da una barca che aveva poi ripreso il largo. Sono stati tre funzionari e un ispettore della polizia. E' stato lanciato l'allarme, lo stesso hanno fatto poco dopo Salvatore e Giuseppe del Volgo, i due pescatori di Lampedusa, che dagli scogli di Muro Vecchio hanno recuperato e portato in salvo due ventenni. Nelle acque antestanti Capo Ponente è giunta invece la motovedetta CP319 della Guardia Costiera. La salma della piccola di due anni che ha perso la vita è stata portata alla camera mortuaria del cimitero. Al poliambulatorio sono stati invece trasferiti due ventenni salvati dai pescatori. E dopo il naufragio un altro maxisbarco, poco prima della mezzanotte. Sono quasi 600 i migranti originari di Egitto, Siria, Iraq, Marocco, Pakistan e Bangladesh sbarcati a Lampedusa. Dopo che il peschereccio sul quale viaggiavano è stato agganciato e scortato fino al molo commerciale. A soccorrere il gruppo sono state le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Grazie a tutti.